E' bene ragazzi in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui per un video un po' strano, molto diverso dal solito Perché oggi andremo a fare uno spacchettamento di un po' di tutto Andremo a spacchettare calciatori, panini, anteprima 2021-2022 Le Adrenaline XL 2021-2022 e i FIFA 365 Su tutti io ci ho fatto un video a parte Ovviamente vi lascio tutti qui sopra, dovrebbe essere qua Nel totale possiamo iniziare Allora io inizierei da sinistra verso destra Quindi iniziamo dalle anteprima Quindi iniziamo, sappiamo che sono unite Ok abbiamo Scesni della Juventus Ibrahimović del Milan Ho preso due Dragonski della Fiorentina Faraoni dell'Ellas Verona Poi Marin del Cagliari Traore del Sassuolo Nzola della Spezia E Berre della Sampdoria Mi ha preso qui il primo pacchetto Ora abbiamo l'ultimo dell'anteprima Se contiamo che questi qua vale come uno Ok quindi Craio del Cagliari Le bustine del Milan sono tutte plus Infatti abbiamo Italiano della Fiorentina Mister della Fiorentina Fares Plus del Genoa Lazari della Lazio Newtix Non so come si dice Dell'Udinese Sala della Spezia E come speciale abbiamo Idolo Darmian Dell'Inter Ok quindi questo qui è il primo pacchetto Andiamo a mettere tutto sopra Andiamo a schiaffare qua sopra Quindi tutto qua Vabbè se andate ad abbassare Però lo mettiamo di là Continuiamo Isai Plus del Lazio Murigno Mister della Roma Pulgar Della Fiorentina Larsen Dell'Udinese Vicario Dell'Empoli E poi Indolo Difensore del Torino Ansaldi Però abbiamo trovato solamente due idoli Allora Penultimo pacchetto Delle Adrenaline Locatelli Plus Della Juventus Mialovic Mister Del Bologna Berec Della Salernitana Nandez Del Cagliari Biettino Super Combo Rebic Del Milan E infine Diaz Diamante Del Milan Quindi finalmente abbiamo trovato qualcosa che non sia un idolo Quindi qualcosa di Decente 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 Diciamo così Ok Non ci entrano a far vedere tutti i pacchetti No vabbè Iatteren Del La Sampdoria Ampadu Del Venezia Toljan Del Sassuolo Ceccherini Dell'Ellas Verona Difensore Difensore di Superabile Bonucci Che una volta ho tagliato E Stella Che sì Questa è carta Tanta roba Per il controllo del gioco Quindi Io andrei a levare Qualcosa Vabbè Andiamo a mettere qua Stanto Solo per farla vedere E ora andiamo ad aprire I tre pacchetti Di FIFA 365 Ok Quindi Herrera E Koke Dell'Atalanta Certo domani Dell'Atletico Madrid Avers E Odoi Del Chelsea Icardi E Messi Messi Del PSG Cobell E Hitz Del Borussia Dortmund E lo scudetto Del Boca Junior Il primo pacchetto E abbiamo trovato Lo scudetto Ah sì Vero La cosa che non mi piaceva Erano I palloni Che erano veramente Orripilanti Onestamente La speciale Non ce l'abbiamo Comunque qua In questi pacchetti Non so perché Ma la speciale Va messa in punto A caso Prima era prima Adesso prima Abbiamo Loro due Quindi vabbè Iniziamo De Paul e Di Maria Dell'Argentina Ecco qua i palloni Veramente orribili Xenizes Non so che squadra sia Onestamente Tielemaz E Den Docter Del Belgio Van de Beek E Matic Del Manchester United Guzman E Ortega Del Tigers Onestamente Non so che squadra sia Però Dallo scudetto Vedo Tigers Ma non so se sia quello Ok Rabiot E Mbappé Della Francia Pallone Del Non so che squadra sia Speciale di Giorgio Nichellini King Kong Che ci ha salvato Nella finale Ruben Diaz E Stones Del Manchester United E infine Neymar E Everton Del Brasile Ok raga Quindi Adesso qui era Il primo spacchettamento Di un po' di tutto Abbiamo aperto Anteprima Panini 2021-2022 Le Adrenaline E FIFA 365 Dite se volete Genere di video Come questi Però Magari con altre figurine Quindi raga Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Un prossimo Ciao 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 Grazie a tutti